Oh no! Oh no! Oh no! Prima che il video inizi ci tenevo a farvi sapere una cosa importantissima Come potete vedere questo qui ragazzi è il mio nuovo profilo TikTok Esector YT Quindi ora io personalmente voglio lanciarvi una sfida Perché se arriviamo a mille followers in pochissimo tempo Fratello Eze vi caricherà in esclusiva il primissimo TikTok Ci ho messo un po' però finalmente anche io mi sono scaricato là Perché come sapete sui TikTok si possono trovare un sacco di video divertenti Ad esempio questo qui Ragazzi questo ve lo voglio far vedere perché inizialmente non capivo Guarda che roba! Ma come cavolo è possibile la roba del video ragazzi? E poi come se non bastasse Perché va bene ridere tutto però Ho cambiato... Eh vabbè vedi perché ragazzi su TikTok c'è anche questo C'è anche... Ma come siamo bravi Eh ragazzi ma sono strenzi Allora sto muovendo Bravissime! Bomberoni mi raccomando Questo qui appunto ve lo ripeto è il mio profilo Se avete TikTok vi aspetto tutti quanti Mille followers per caricare la prima bomba di fratello Martello Yed Se non avete l'app scaricatevola Tanto è gratuita Vi aspetto Questa è una sfida che voglio lanciarvi Approdiamo finalmente anche noi su questa piattaforma Ci vediamo su TikTok Non mi deludete Buona visione! Ciao a tutti ragazzi Sono Esector e bentornati Da un nuovo video direttamente dalla Wow! Quest'oggi bomberoni Siamo tornati con una nuova Football Challenge O meglio Accuracy Football Challenge Come vedete Dietro di noi abbiamo una porta Attaccata la porta Abbiamo una rete Se prendiamo gli incroci In alto, a destra, a sinistra Valgono mille punti Quelli in basso 500 Al centro Invece 100 punti Naturalmente avremo 5 tiri a disposizione Chi totalizzerà più punti Ci porterà a casa La One's Cup Siete pronti? Non lo abbiamo detto Più passano i round E più la difficoltà aumenterà Quindi essendo questo il primo round Si parterà molto easy Round 1 Sei pronto? Un botto Mi raccomando ragazzuoli Qui sotto nei commenti Commentate con i cuoricini In base al proprio colore Verde Blu Arancione Viola Mi piace In corsa Da pistolero Fa lui col destro Rete E' Rete Non può sbagliare Non può sbagliare Il migliore di tutti Che schifo Oddio One shot Mille punti Non l'abbiamo detto Ma sul canale di tuberanza E' già uscita una challenge simile Questa è il livello avanzato Un po' più difficile Perché in mezzo C'è la piscina A dividerci dalla porta Oddio Adesso ragazzi Toccherà a me Preparatevi Perché Di giorno le nostre gambe Seguono il nostro ritmo Parte Incredibile No 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 Come dico sempre ragazzi Non mi si alza Non mi si alza Ragazzuoli E' il mio turno La metto nello stesso punto In cui l'hai messo tuberanza Mi piace passare dove c'è già passato un altro treno Mamma mia Non è possibile E tocca a lui adesso Proverò a centrare il buco più semplice Il buco più semplice Ma io sta Nonché il più spazioso Prova USA Mamma mia ragazzi Mamma mia che scandalo Scandalo Secondo round quindi aumenta di un gradino la difficoltà Adesso sarà Tiro al volo Oh bello Ragazzuoli Io tenterò ancora una volta I mille punti Uno Due Tre Oddio Se ti veniva anche questa ti bozzavo i piedi Porco demonio Allora ragazzi io ho bisogno di qualcuno che me la sappia alzare almeno quanto io la sappia far girare Vai Siamo pronti Vai Oh my god Ragazzi dov'è che l'ho messa Dov'è che l'ho messa Ragazzi per il momento ha segnato solo tuberanza Tre Due Io tirerò in ciabatta perché mi danno potente Ragazzi se lo fai in ciabatta e vale dopo Ma va l'ha detto L'ha detto eh Vai L'ha detto Ricorsa breve Prova lui Ce lo sapevo Uomo più scordinato sulla faccia della terra Io ce lo sapevo E mo Prima di iniziare la challenge di Signori mi raccomando non calciamo di collo Altrimenti con la potenza che gli diamo alla palla boccia Sopra la rete Cosa è successo Usa ha preso tutto alla lettera Un applauso Terzo round Abbiamo preso un'altra palla Quella là purtroppo è andata persa Quindi qui sono No ma via Usa Accuracy football challenge Finita male Nuovo round Nuova difficoltà Adesso Fratello martello Io ti darò la palla così E tu sempre al volo Dovrai provare a buttarla in porta Dai che la volta buona È che perdiamo due pali in un solo video Vado eh Oddio Fratello pelo Fratello martello Tiro Scandola Il mio alzatore sarà tech 3 2 1 Rimbalzino E tiro matto Lui lo sbagna Lui lo sbagna Incredibile Oddio Ho preso il buco più grande Qua sono andato sulla tranquillità Non importa 100 punti eh Bravo 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 Chiama anche tu L'1-2-3 stella 1-2-3 stella Per regalare delle nuove ciabatte Super A Usa Quarto round Il che vuol dire Che è arrivato il momento Di fare una mezza rovesciata al volo Dentro la piscina Mi piace Ok Te la metto lì adesso Adesso è lì Lì Pronto 1-2-3 Non ho capito No 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 Ha toccato sotto Poi è salito Adesso toccherà a me Fare la sforbiciata Vi ricordo che io sono un maestro Della sforbiciata Vi ricordo che io sono un maestro 3-2-1 Via Su Oh Hai beccato il porto della piscina Se non entrava Sono un maestro a farle Ragazzi Buono Siamo giunti agli sgocci Non ci sono state tantissime rette Io con solo 100 punti Sono sul podio Per il momento 3-2-1 Via Oh no No All'altra parte Ragazzi c'è un piccolo problema Non abbiamo più pallone Eh sì Fabio Ho avuto un problema Tecnico al piedi Eh sì Luca 1-2-3 Vento e ultimo round Va bene forse per i palloni Ragazzi Questo sarà un po' a scelta Ma sarà sempre al volo Quindi o di testa O di rovesciata Bello di rovesciata 1-2-3 Vola 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 La prima Un esemplare di tube tronco Alla ricerca di la palla Chi me l'ha fatto fare Di fare questa challenge E perdere 18.000 palloni Ragazzi Dato che io Ho gli occhiali Ho però La rovesciata Che schifo Fra Qui lo dico e qui lo confermo Se fai i gol e il rovesciato Finisce il video Finisce il video Finisce il video Ragazzi se l'hai tirata in testa Se l'hai tirata in testa Siamo arrivati al giro di buona È il mio ultimo tiro Sai cosa faccio? Mi tolgo anche questi Via Uno Vai Oh Oddio Pochissimo Così come il mio pistolino Non ci credo Bravo bravo lo stesso Bravo 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 Ragazzi tirò di testa Madonna c'è più freddo Lo fa freddissimo No Obra Obra Partenza Via Neanche la porta Neanche la porta Bene sì Anche questa football challenge È giunta al termine A once cup La vince sempre lui Signore e signori Il campione di carico Veranza E voglio di nuovo dedicare Questa palla Ai nostri No Non è una palla Voglio dedicare questa coppa Ai vicini Che dovranno ridarci due palloni Perché se no Non facciamo più È giusto È giusto Ti raccomando Buon liceone Iscrivetevi al canale Ativate la campanellina Noi ci vediamo Nel prossimo appuntamento Con gli One One